Un messaggio su WhatsApp uguale per tutti, per interrompere il contratto di lavoro senza troppe spiegazioni. A riceverlo alla fine di luglio circa un centinaio di fattorini impiegati di KM Group, azienda pattatrice di Amazon nel comune belga di Flemall. C'è difficile per noi, è abbastanza difficile per noi, di trovare senza re di tutto, di un co. E non sappiamo cosa fare. Secondo quanto riferito dai sindacati di categoria, il 31 luglio la direzione ha annunciato il fallimento dell'azienda tramite un sms, in seguito al rifiuto di Amazon di rivedere a rialzo il prezzo del contratto. I sindacati hanno organizzato una manifestazione giovedì mattina, proprio davanti al deposito Amazon, sperando di fare luce sulla vicenda e attirare l'attenzione sulle condizioni di lavoro nel settore delle consegne. I lavoratori sono ora senza stipendio e senza la possibilità di richiedere l'indenità di disoccupazione a causa del bilancio non ancora presentato ufficialmente. I lavoratori sono i suoi confronti. Grazie a tutti.